Bentornati in un nuovo video del canale su Pokémon Scarlatto e Violetto e oggi andremo a vedere gli eventi in arrivo domani nel gioco perché abbiamo qualche novità. Ovviamente da domani, 7 giugno, torneranno i raid 7 stelle di Swampert e in aggiunta ci saranno anche dei raid 5 stelle di Blissey. Come al solito nella seconda ondata dei raid 7 stelle aggiungono sempre i raid di Blissey per farmare Caramelle. Quindi se vi dovessero interessare delle build per andare a battere Swampert nei raid 7 stelle ho fatto un video riguardo la settimana scorsa durante la prima ondata di questi raid e quindi potete andare a rivedere quel video in cui consiglio due o tre build con cui potete affrontare in solitaria Swampert, batterlo e ovviamente catturarlo. Per quanto riguarda invece i raid di Blissey, questi di solito si usano per farmare Caramelle perché hanno un drop aumentato di Caramelle XL e Caramelle Rare quindi di solito sono molto utili per farmare le Caramelle ma in realtà si usano anche per farmare Teraliti perché sconfiggendo un raid di Blissey di un certo Teratipo otterrete moltissime Teraliti di quel Teratipo e chiaramente qualche altra Teralita extra. Quindi diciamo che vi servono per esempio delle Teraliti Fuoco, vi consiglio di andare a fare qualche raid di Blissey Teratipo Fuoco per farmare appunto quelle Teraliti. Non è difficile trovarli sulla mappa, in caso potete comunque resettare i raid mandando indietro di un minuto il tempo della vostra Switch con il gioco acceso. Comunque tutto questo diciamo che è ordinaria amministrazione, ritorna Swampert e vengono aggiunti i raid di Blissey. Ma in più c'è una novità ed è per questo appunto che sto facendo questo video. La novità è che ci saranno anche delle comparse massicce e in particolare avremo delle comparse massicce di Finizen a Paldea, delle comparse massicce di Lotad a Nordi Via e delle comparse massicce di Orsi nel Vio Terrarium nell'Istituto Mirtillo. Ovviamente se non avete comprato i due DLC non avrete disponibili le comparse di Lotad e Orsi perché si trovano appunto a Nordi Via e nel Vio Terrarium che non sono accessibili se non avete il DLC. E per quanto riguarda i Pokémon appartenenti a queste comparse, purtroppo non abbiamo uno Shiny Rate aumentato. Hanno fatto degli eventi con comparse con Shiny Rate aumentato ma non è questo il caso. queste comparse avranno una probabilità aumentata di avere l'emblema Aria Gentile che è un emblema della personalità che ha di solito una probabilità di 1 su 100 di essere trovata e invece probabilmente durante questi eventi se fanno come hanno fatto per gli eventi passati in cui c'è stato un emblema aumentato verrà aumentato al 5%. Quindi comunque potete usare queste comparse massicce per effettuare dello Shiny Hunting ma la probabilità non sarà aumentata. Però comunque con il panino della tipologia corretta e il Chrome Omuleto la probabilità sarà appunto la migliore possibile che è quella di 1 su 500. E quindi come detto potete usare il metodo delle comparse massicce per lo Shiny Hunting e magari trovare uno Shiny che ha anche l'emblema Aria Gentile che sarebbe comunque una cosa molto rara. Ma siccome la probabilità di trovare questo emblema è aumentata potrebbe essere appunto l'occasione di trovare uno di questi Pokémon Shiny con appunto quell'emblema. Come detto quindi queste comparse saranno attive esattamente insieme ai raid di Swampert e ai raid di Blissey quindi dal 7 giugno al 9 giugno. In realtà per quanto riguarda l'orario italiano sarebbero le 2 di notte del 10 giugno però comunque potete appunto segnarvi il 9 giugno come data di fine. Come al solito per ottenere questi eventi quindi sia le comparse ma anche i raid dovete andare su Poképortale poi in fondo fino a Dono Segreto e qui fare ricevi news dal Poképortale una volta che gli eventi saranno attivi. Oppure vi basterà se avete un abbonamento a Nintendo Switch Online semplicemente collegarvi a internet. Vi ricordo comunque che tutti questi eventi quindi le comparse nel caso in cui vi dovesse servire ma anche i raid possono essere tenuti nel vostro gioco per più tempo anche oltre la loro scadenza. infatti se vi collegate online o appunto fate ricevi news dal Poképortale durante gli eventi otterrete questi eventi nel gioco. Se però poi vi scollegate da internet e non vi ricollegate più online il gioco non saprà quando questi eventi saranno finiti e quindi potete appunto tenerli anche per tutta la settimana successiva soprattutto parlo per le comparse nel caso in cui vogliate catturare gli shiny e magari non avete troppo tempo questo fine settimana potete appunto tenere queste comparse nel vostro gioco per più tempo non collegandovi a internet. E comunque questo vale anche ovviamente per i raid quindi anche se volete affrontare su Ampere durante la settimana potete tenere i suoi raid a patto che non vi collegiate più a internet. E con questo direi che è tutto per quanto riguarda gli eventi come sapevamo già tornano appunto su Ampere dei Blissei ma c'è questa piccola novità delle comparse massicce di Pokémon Acqua possiamo dire perché sono appunto tutti Pokémon di tipologia Acqua e sebbene non ci sia lo shiny rate aumentato c'è questa piccola chicca della probabilità di questo emblema aumentato che può essere comunque interessante e comunque diciamo che uno dei vantaggi è sempre avere queste comparse perché è vero che potete avere queste comparse normalmente nel gioco ma durante questo fine settimana sarete sicuri di avere queste comparse sulla vostra mappa quindi se per caso vi interessa avere per esempio un finish and shiny al posto di effettuare il metodo dello shiny hunting per isolamento che tra l'altro devo dire con i Pokémon Acqua non è molto semplice perché appunto isolare un Pokémon di tipo Acqua è molto difficile essendo che i Pokémon di tipo Acqua si trovano di solito nel mare ma nel mare si trovano anche altri Pokémon di tipo Acqua quindi con un potere incontri tipo Acqua non riuscite di solito a isolare i Pokémon di questa tipologia a parte rari casi quindi diciamo appunto che il metodo dell'isolamento non funziona molto bene e quindi di solito per questi Pokémon bisogna usare il metodo della comparsa e magari andare alla ricerca della comparsa di questi Pokémon può essere comunque lento e noioso quindi sapete che in questo fine settimana avrete le comparse di Finisen, Lotad e Orsi senza dover andare a cercarla anche se sappiamo tutti che c'è un metodo per influenzare le comparse che vi compaiono sulla mappa sfruttando sempre i panini e resettando le comparse diciamo che questo è un metodo molto più rapido per avere queste comparse sulla vostra mappa comunque se volete resettare le comparse vi faccio vedere vi basterà aprire la mappa anzi non è necessario solo per farvi vedere vi basterà andare poi in impostazioni e qui andare semplicemente a cambiare la vostra data e ora anzi solo l'ora mandarla indietro di un minuto e schiacciare ok chiaramente e adesso tornando in gioco ci saranno altre comparse vedete che si sono resettate e anche i raid si sono appunto resettati e questo vi può anche essere utile come dicevo prima per i raid di Blissey quindi se volete un Blissey di un certo teratipo potete resettare i raid in questo modo e quindi farmare le teraliti che appunto più vi servono come detto però direi che per questo video è veramente tutto solo vi segnalo visto che ci sono le comparse di Finisen che se vi dovesse servire qualcuno con cui fare una cerchia a contatto per appunto far evolvere Finisen in Palafin che questo sia Shiny o non Shiny non è importante potete sempre unirvi al mio server Discord dove sicuramente troverete me o altre persone che non si faranno problemi a creare una cerchia anche per giocare online o anche solo appunto per far evolvere un Finisen ci vogliono appunto 5 minuti non è un grosso problema sia che vi dovesse servire per il Pokédex magari ancora per il Pokédex o appunto che vi servisse solo magari far evolvere il vostro nuovo Finisen Shiny trovato in queste comparse massicce e quindi il link è sempre in descrizione nel video ma anche nelle informazioni del canale se volete unirvi al server Discord con questo grazie intanto per aver visto questo video e ci vediamo a presto per un prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti